fino adesso hai visto i video dall'esterno quindi gli esercizi del corso di guida vai con sicurezza dall'esterno guarda invece cosa succede all'interno con l'esercizio del sottosterzo insieme a tiziano l'istruttore guarda il video vai accelera accelera metti la seconda accelera ancora accelera ancora 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 ora ho preso tutti i birilli accelera accelera seconda stai larga accelera ancora 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 ora vai ma non ammazzare quei due signori là accelera 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 vai così ora gira gira di più gira una volta ce l'hai fatta no finalmente accelera seconda marcia dai ancora vai così vai così vai così vai così vai così ora gira tutto lascia l'acceleratore brava ok si accelera te lo dico io quando devi tieni l'acceleratore così ora gira tutto apri un po' il volante bravo hai visto che adesso l'hai tenuta ora si ora lascia un po' e raddrizzo brava ok visto come sei stata rispetto a prima che chiudevi troppo ora ok bravo hai sentito quella vibrazione lì tu cosa devi fare per correggere devi aprire leggermente lo sterzo e lasciare tutto l'acceleratore ora eh ancora stringi troppo stai l'acqua ok ancora un po' di più ora così andava già meglio esatto ok ora lascia apri un po' il volante così la macchina riprende subito lo sterzo lascia l'acceleratore ma apri anche appena appena il volante si cambia marcia vai 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 ora lascia e la prendi bravo ora lo sterzo non soltanto lasciare l'acceleratore ma apri leggermente lo sterzo in qualche grado in modo che fa prima a riprendere l'aderenza sull'anteriore ok poi lo richiudi se serve accelera 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 tienila costante così ora andiamo con lo sterzo bravo hai visto come subito? si come ritorno subito subito ritorna eh seconda marcia stai larga gira tutto a destra ok ok facciamo più veloce ok cambia marcia ora quando ti dico ora giri tutto eh pronti ancora 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 ora gira tutto oppa vai accelera 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 cambia marcia stai larga ancora accelera accelera ora gira veloce lascia l'acceleratore riapri appena appena lo sterzo hai capito? sì stai larga ora 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 gira lascia l'acceleratore e raddrizzi ok ah bello mi è piaciuto pensavo di far danni hai visto? fermati seconda tieniti larga quando ti dico ora tu giri tutto eh accelera ora gira tutto lascia l'acceleratore e raddrizzi un po' tieni così costante ora lascia lascia l'acceleratore ok e riprendi bravo hai visto? bello sì mi piace è andato meglio è andato meglio adesso accelera 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 ancora stai larga aspetta il comando ora gira lascia l'acceleratore anche un po' lo sterzo aprilo ok rallentiamo sei stata brava hai capito l'esercizio bene stai larga cambia 30-40 l'ora non di più aspetta ora vado a rilasciare anche l'acceleratore stai largo ora e riapri lasci l'acceleratore e riapri lo sterzo cambia ora ora apri un po' lo sterzo ma lo vuoi già dire vai accelera cambia vai 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 ora ora vai ancora ancora ora 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 ok 30 ora devi entrare dentro più sparato 30 all'ora un po' di più ora gira tu hai sentito che adesso ha preso il sottosterzo adesso si lo sento ecco accelera te lo dico io ora ora gira tutto e lascia e riapri leggermente lo sterzo non devi fartelo scappare dal volante ve lo dalle mani devi tenerlo dai te lo dico io ora hai tirato anche il freno mare guardatevi sei accorto eh ora ora apri un po' bravo ok te lo saresti mai aspettato hai visto come si sono comportati i miei allievi durante questo esercizio ovviamente si impara a fare in modo che fuori sulla strada questo non succede fammi sapere cosa ne pensi nei commenti ciao ciao